ben ritrovati ai telespettatori di cilento channel siamo in diretta televisiva dal castello dell'abate per la quinta serata dedicata ai talk show del castellabate international film festival terza edizione ringrazio subito tutti i presenti che sono qui per questa serata e anche tutti i nostri ospiti che dopo andremo a salutare un ringraziamento speciale al direttore artistico del festival al gianni petrizzo che qui con me questa sera che ha faticato tanto in queste serate insomma perché io sono stata assente come avete potuto vedere insomma nelle serate precedenti ma questa sera insomma con molto piacere sono qui e insomma vi terrò compagnia insieme ai nostri ospiti allora gianni cinque serate cinque giornate intense partendo dalla mattina con i laboratori dedicati ai bambini un successo dopo l'altro quanto pare perché insomma le recensioni degli ultimi giorni insomma parlano bene di questa esperienza cinematografica buonasera raffaella buonasera al pubblico che ci segue da casa anche il pubblico più presente e buonasera ai nostri ospiti un parterre davvero importante di artisti nazionali e internazionali che partecipano quest'anno alla terza edizione del castellabate film festival un sogno che si è realizzato è un sogno che abbiamo condiviso anche insieme ieri sera nel talk show con gli ospiti internazionali che hanno presentato i loro film questa sera invece l'idea è quella di parlare di cine turismo raffaella perché siamo assolutamente convinti che il cinema possa portare turismo nei luoghi dove si girano appunto qualsiasi tipo di prodotto audiovisivo quindi partendo da un lungometraggio i documentari i cortometraggi insomma sono comunque veicoli attrattivi affinché un pubblico possa visitare i luoghi e quindi questa sera insieme ai nostri ospiti faremo una bella chiacchierata per capire anche qual è la loro idea per sviluppare sempre di più questa tematica quindi io ringrazio ancora una volta i nostri ospiti davvero sono stati importanti per questa terza edizione che purtroppo questa sera termina con le attività domani ci sarà la serata di gala sempre in diretta televisiva premieremo i migliori film che hanno partecipato e quindi colgo l'occasione anche di ringraziare in questo talk show tutto lo staff che ha lavorato dietro le quinte grazie gianni allora come anticipavi ai nostri telespettatori anche ai nostri ospiti presenti qui nell'altro del bellissimo castello dell'abbate si parlerà di cine turismo e quale migliore location come quella di castellabate insomma che ha ospitato tantissimi tantissimi attori registi insomma che hanno girato film importanti lo ricordiamo benvenuti al sud che ha dato insomma il successo insomma alla città di castellabate ma vado a salutare gli ospiti presenti e comincio dal padrone di casa la sindaco facente funzioni luisa maiuri che ringraziamo ancora una volta per aver sostenuto questa bellissima manifestazione che è giunta quest'anno alla terza edizione grazie sindaco e poi a seguire lucia macale che la produtti produttrice di imago film ben trovata poi abbiamo la nostra interprete teresa infante la nostra splendida interprete teresa infante che già ieri sera insomma è stata davvero molto molto brava e brillante con i nostri ospiti internazionali complimenti teresa abbiamo mister emma che è l'autore del documentario 60 males and day che insieme ovviamente l'autore insieme a michelle bross che è nel pubblico e che saluto e ringrazio poi abbiamo kit stout del film living with the dead ben trovato e poi chris anthony che è il regista del film mission mountain mangard ben trovato i film che appena ho menzionato insomma sono stati visionati dalla nostra platea di spettatori nella serata di ieri mentre ci sarà poi la possibilità anche di vedere il film della nostra ospite lucia macale poi questa sera e allora iniziamo subito dal sindaco facente funzioni luisa maiuri che ci saluta innanzitutto e poi ci racconta anche l'esperienza di castellabate per quanto riguarda appunto il cineturismo e quanto di bello ha portato a questo territorio il cinema buonasera a tutti io innanzitutto desidero salutare e dare il benvenuto a nome di tutta la comunità di castellabate ai nostri ospiti alla signora lucia macale agli ospiti internazionali altra sera ho avuto il piacere di conoscere kit nella serata inaugurale stasera do il benvenuto agli altri mi fa molto piacere perché per la terza edizione di del castellabate film festival assunto appunto grazie alla vostra presenza alla vostra partecipazione quel respiro internazionale che noi continueremo nei prossimi anni a portare avanti si dice che grazie a te veramente per essere qui e finalmente possiamo respirare internazionale breath reale internazionale breath con voi qui qui e questo posto è davvero incredibile per il cinema quindi solo vuole continuare con la sua città e cercare di fare il meglio possibile ancora dice grazie a tutti il tema è un tema che è calzante a questo territorio è un tema calzante perché castellabate l'ho avuto modo di dirlo anche l'altra sera c'è stato nei giorni scorsi appunto nei comunicati da parte di alcune testate giornalisti hanno definito castellabate terra di cinema ed è la verità a couple of days ago she just found out that for television she had heard that castellabate has been considered the earth of cinema so this is really amazing for the city and for her since she is a mayor so it's really fantastic abbiamo una tradizione lunga perché tantissimi registi hanno scelto come location a castellabate we have a long long history for what you know concerns cinema because many actors and film writers filmmakers have decided to stop here in castellabate a cominciare negli anni settanta fine anni settanta inizi anni ottanta since the seventies till up to sergio staino girò qui cavalli si nasce con con attori importanti fu una pellicola probabilmente di nicchia non ebbe quel grandissimo successo però parlava già di per sé l'importanza del regista e anche degli stessi attori che hanno girato tra l'altro in una location che poi è ritornata in benvenuti al sud che è il porticciolo delle gatte qui a santa maria di castellabate più volte martone utilizzato i nostri territori nostri paesaggi per alcuni suoi film non ultimo l'isolotto di licosa in capri revolution quindi un altro film importante another important film has been shot here called revolution film è evidente che il grosso successo di questo territorio lo deve a benvenuti al sud a luca miniero non solo benvenuti ma anche qui è stato girato anche il sequel parte la prima parte del sequel benvenuti al nord e quindi il tema il cineturismo il turismo cinematografico diciamo che è un segmento del tunismo che noi conosciamo bene perché ne abbiamo esperienza ne abbiamo esperienza they have a lot of experience in this town because when they you know just made this film here they shot the film that famous one the one that i'm always talking about and so they have a really good and great experience ma giusto per concludere il discorso dei film since the seventies sorry per concludere il discorso dei film e altre prodotti che sono stati girati qui io a due tre anni fa un importante regista tedesco purtroppo mi sfugge il nome ha girato un film per la televisione tedesca e questo film girato interamente a Castellabate ha avuto un grandissimo successo in Germania per cui l'etichetta terra di cinema non è un'etichetta che noi ci siamo abbiamo ci è stata data quindi proprio per le esperienze di questo territorio c'è stato un altro film molto importante un film germano ok? è stato qui quindi è davvero importante e bisogna essere servito in questa città anche i germani io ho avuto sempre modo di ripetere che Castellabate tutto il territorio del comune di Castellabate è un territorio bellissimo già di per sé e basti pensare che è un territorio che vanta riconoscimenti importantissimi dalla bandiera blu, dalle cinque vele tanti altri riconoscimenti che già sono di per sé un attestato di qualità ambientale e turistica di questo territorio però è da dieci anni a questa parte perché l'anno scorso dovevamo appunto festeggiare i dieci anni di Benvenuti al Sud che il nostro territorio è conosciuto perfettamente non solo a livello nazionale ma anche direi a livello avvarcato i confini nazionali anche perché il film tra l'altro è stato mandato anche in Europa ma oggi Castellabate è conosciuta perché location nonostante, ripeto, fosse una realtà bellissima turisticamente importante oggi Castellabate è conosciuta grazie a Benvenuti al Sud ok, she's just saying the same old things over and over again all right that Castellabate has become really famous thanks to the weather, to the climate to the sea, to the sun and for this film, all right and ten years ago it wasn't like that and now it has become it's not even important it's not only important for the films but it is also important for the culture ok Luisa permettimi di dire anche che ancora oggi tantissimi turisti non solo italiani ma anche internazionali che giungono qui a Castellabate ancora chiedono della posta che insomma venne allestita proprio nella piazzetta che è qui giù dove c'era un bar dove c'è attualmente un bar e quindi per quel periodo fu invece allestita insomma una posta che è poi la famosa posta di Benvenuti al Sud giusto Luisa? certo ma ancora oggi noi registriamo tantissime presenze io lo chiamo il pellegrinaggio cinematografico perché Castellabate è meta di tantissimi bus turistici che vengono un po' da tutta Italia appunto per visitare la location di Benvenuti al Sud e ancora tant'è che quest'anno abbiamo dovuto disciplinare e contingentare ma anche per motivi di per l'emergenza sanitaria abbiamo dovuto disciplinare il numero degli accessi dei pullman qui a Castellabate quindi voglio dire è qualche cosa che non è terminata e tengo a precisare che l'altro ieri sera è stato ridato su Canale 5 Benvenuti al Sud e stasera mi pare che fanno Benvenuti al Nord e io voglio precisare che ieri sul sole 24 ore tengo qui il giornale è uscito un articolo su Castellabate che grazie a Benvenuti al Sud può essere trainante per tutto il territorio cilentano e ieri su Sky TG24 nella sezione spettacoli c'è tutto un reportaggio con tutte le location più importanti di Castellabate dove è stato girato il film quindi l'attenzione si ricrea ogni qualvolta che questo film comunque viene riportato in televisione Ok, she just said that she just said that every time that you see this film you're welcome to the South everyone starts talking about the television and the news start talking about this in TV and it becomes famous day by day you know you just remember it again alright even if 10 years have passed and then she also said that people from all over the world come and visit Castellabate they want to see where that film has been shot you know and they want to see a sort of bank there but it's not there anymore now there's a bar so they say well this wasn't in the film where is it so it has become famous for that ok now there's a bar that's right bene bene allora proprio sulla scena di quello che ha detto il sindaco di Castellabate Luisa Maiuri mi piacerebbe proprio fare una panoramica con i nostri ospiti su qual è la loro idea proprio di cine-turismo quindi di quanto può portare ad un territorio in termini insomma turistici come ha detto anche il nostro sindaco il cinema e allora iniziamo da Lucia Macale che ci dà insomma la sua idea di cine-turismo e quanto sia importante per un territorio ecco sviluppare delle manifestazioni legate al cinema ma anche girare dei film su un territorio che poi possono portare appunto turisti e cittadini da tutto il mondo bene buonasera e grazie dell'invito dunque la mia più che un'idea è un'esperienza perché la nostra società Imago Film ha prodotto 49 documentari e tra questi la maggior parte sono dedicate alla storia all'arte e al territorio quindi direi che parlare di cine-turismo è un po' parlare della nostra storia in qualche modo ok ok her idea of making a film ok her idea of making a film is partly due to she loves to you know just shoot films that concern art literature and this is it ok e oltre a questi i lungometraggi di cui il diritto alla felicità di Claudio Rossi Massimi che potrete vedere stasera e un altro lungometraggio la sindrome di Antonio anche questi sono stati girati in territori speciali la sindrome di Antonio è un on the road che va dall'Italia alla Grecia e mentre il diritto alla felicità è stato girato in uno di quelli considerati i borghi d'Italia che è Civitella del Tronto quindi il rapporto fra il cinema e il territorio è un fatto consolidato nella storia delle imagofilme ok she also wrote long films alright that you probably saw them already or you're gonna see them this evening ok and these films also start from Italy and go to Greece it's like a documentary ok it's like a voyage a long trip alright so she wrote and she shot many long films quindi io sono assolutamente convinta dell'importanza del cinema nel turismo ma ne sono convinta non solo perché è un veicolo promozionale importante ma anche per la durata che la promozione del territorio può avere attraverso il cinema se ci pensate ci sono dei film datati in cui noi ancora ammiriamo dei bellissimi territori o delle città d'arte quindi il cinema oltre a promuovere il territorio in quel momento in cui esce il film lo fa anche per tutta la sua vita l'anello forse non dico mancante ma che va rafforzato è quello fra gli enti preposti alla promozione del territorio e il turismo parlo di Italia ma parlo anche di estero avendo fatto un lungometraggio che è un on the road fino alla Grecia l'ente del turismo non sempre o una volta in Italia c'erano le province ma insomma ovunque ci sono enti preposti alla produzione del territorio non sempre è così convinto di quello che può promuovere il cinema quindi è molto importante sensibilizzare a questo tema è molto importante sensibilizzare il tema di film in particolari e la promozione di questi film anche i direttori e cercando di avere il money per produire i film quindi questo non è facile ma lei pensa che sarà necessario noi siamo abituati anche a pensare un po' alla fruizione in sala del film che è sempre rispettabile e rimane la fruizione principe però se pensate alla grande diffusione delle piattaforme al di là del fatto del coronavirus che adesso tutti diciamo che durante la pandemia le piattaforme sono schizzate ma comunque è anche la fruizione del futuro ancora di più nelle piattaforme il prodotto cinematografico allunga di molto la sua vita in qualche modo e quindi il territorio sarà sempre promosso rispetto a un prodotto editoriale lo spazio temporale è sicuramente molto molto più ampio molto importante è promuovere questi film anche ora con questo virus e sarà una piattaforma per le persone che vedono e credo che un giorno sarà veramente merito to shoot tutti questi film con piattaforme e l'altro elemento secondo me importante sono le manifestazioni dedicate al cinema le manifestazioni sono davvero importanti dedicati al cinema uno in Cipro e l'altro è in Azzerba e Gianbacu ok non so dove è ok quindi è un tema anche quello delle manifestazioni che in qualche modo conosciamo la manifestazione come questa per esempio fa sì che confluiscano non solo un certo numero di persone che magari sono invitate artisti eccetera eccetera ma anche che tutti quelli che iscrivono i film tutti quelli che scrivono i film tutti quelli che iscrivono i film sono portati a vedere iscrivo questo e sappiamo che i numeri arrivano migliaia migliaia di film ai festival sono portati a controllare perlomeno io quando faccio iscrivere un mio film della mia società di produzione controllo dove sta il festival e quindi anche questo è un altro indotto in qualche modo perché tutte le persone che scrivono i film sapranno che il Castellabate film festival avviene a Castellabate e magari vanno anche a vedere dove è di produzione che scrivono tutti questi film per lei o per qualcuno una volta le leggere il film sapranno che questo film è stato scelto in Castellabate o in Salerno eccetera eccetera ok in questo specific place ok e in questo place diventerà famoso per il turismo sono assolutamente convinta di questo di questo connubio che il cinema può supportare il territorio così come il territorio può supportare ovviamente il cinema perché la nostra esperienza per esempio per il diritto della felicità è stato girato durante il coronavirus e il territorio con le sue istituzioni ci hanno molto protetto perché sicuramente era un periodo molto delicato quello per girare ok e lei anche ha scelto questo film durante questo particolare periodo il virus periodo e lei è molto felice perché ha veramente protetto questo film tutti gli attori e tutto ok quindi ne sono convinta e per questo secondo me è ottimo che sia stata dedicata una serata a questo tema grazie e lei è molto felice che questa domanda ha stato dedicato questo tema cinema turismo grazie a Lucia Macale come te è convinto anche il direttore artistico tant'è che questa è la terza edizione ma a lui insomma il cinema c'era nel sangue quindi va a dormire con il cinema si sveglia con il cinema vive per il cinema questo te lo posso garantire ci tenevo a precisare che in sala c'è il regista Claudio Rossi Massimi che ci sta guardando e che dopo insieme a noi insomma parlerà del film il diritto alla felicità in conferenza stampa insieme a ad Anna Maria Fittipaldi che è un'attrice del film e poi volevo salutare ancora sempre in platea Rich Bonora giusto Rich eccolo lì Rich Bonora è il CEO di The Upper Deck Company ho detto bene oh wow tu mi promoverai quindi con l'inglese stai migliorando sto migliorando andrò in America l'ho detto a mia moglie Raffaella sicura andremo tutti insieme perché perché l'anno prossimo non posso arrivare impreparato con la lingua inglese quindi mi farò due tre mesi in America ospite di Rich sicuramente grazie Rich non lo conosco ancora però sono contento perché stasera ci siamo conosciuti per telefono ed è venuto qui per supportare il festival e questo ci fa molto piacere magari lo possiamo dire poi dopo magari farà il saluto anche Rich Chi è da Long Island? Io? No io vengo da Jersey City Long Island Rich in tv non ti sentono quindi vieni un attimo qui se vuoi discutere vieni ha detto quello che state facendo adesso è quello che hanno fatto a Matera fai allora dai il microfono Rich l'hai sanificato? ok sali sul palco Rich va bene un altro guest buonasera scusa se non parlo benissimo italiano però ci provo volevo dire che qui a Castellabadi stanno facendo come ha fatto Matera anni fa con Passion of the Christ che dopo Passion of the Christ Matera è scoppiata di film tanti film documentari tutti questi turisti da tutto il mondo sono stato lì a fare Bond perché abbiamo upper deck c'è la licenza di James Bond lavoro con Carrie Fukunaga direttore ah scusa ok you guys are all English you speak yeah they speak English ok you can speak English I can speak English to them yeah so nobody else yeah yeah ok nobody else understands so I'll tell you real quick so basically what Castellabadi is done and is trying to do is what scusa sorry what they're trying to do is what Matera did years ago with Passion of the Christ with Mel Gibson that it blew up Matera and now they've done many films including you know James Bond No Time to Die which you know I work with Daniel Craig and Carrie Fukunaga we represent them and that's why this place has become really very famous that's right just like Castellabadi just like Castellabadi so a lot of people are doing film here you can see Stanley Tucci on CNN Finding Italy it's bringing everybody here for food history film so it's it's really a good thing that they're doing here and it's to promote the theater and the festival yes that's great 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 thank you perfect allora continuiamo quindi con le idee dei nostri ospiti anche se ieri si sono già insomma un po' confrontati con Gianni hanno parlato anche un po' di cineturismo insomma hanno introdotto un po' il tema di questa sera però a noi piace insomma ecco fare una chiacchierata d'ampio raggio e cominciamo con Mr. Ema e la sua idea ecco di cineturismo per quanto riguarda l'attrattività che potrebbe poi portare ad un territorio in questo caso insomma ecco la sua località ma anche come trova questa iniziativa qui a Castellabate quindi il festival che abbiamo organizzato prego Teresa ok what we want to know now is an idea from you of you know a film in this area or any area what kind of idea have you you broadcast it here my movie 60 miles a day and it's a story about Michel Voros who ride on the road 66 but the word 66 it's also a person of the movie because all the person watch the the landscape of the route 66 and also the route and so I realized that is an idea of a journey along this route 66 is an idea and so I realize architecture movie since 15 years I realized maybe more than 500 clips movie of architecture and so for me this movie are tourist things because all the person who watch the house the castle maybe the urbanism of a city want to watch this and so for me so make movies about architecture is also make the promotion of a region of a city of neighborhoods and so on ok per quanto riguarda appunto questo lungo cammino si visiona si vedono case abbandonate palazzi antichi strade rovinate distrutte lui vorrebbe la sua idea parlare dell'architettura di antichi palazzi di castelli ma non solo antichi anche nuovi e magari girare questo film questo documentario in varie località qui o altrove per poi farne un film avendo fatto poi avendo girato un film del genere i turisti potranno visionare vedere questo luogo esattamente come benvenuti al sud e magari visitarlo portare più turismo più turisti e molti film stanno facendo questo ed il cinema portare turismo sì ho detto in modo tale che può portare gente da tutte le parti del mondo e ci auguriamo che il Castellabate Film Festival possa essere un volano per quanto riguarda il turismo nella sua località Chris Kit Kit scusami Kit Stout ovviamente anche per te la stessa domanda sarei curiosa insomma di capire la tua idea di cineturismo e poi anche se è la prima volta che presenti il tuo film in Italia quindi è la prima volta attraverso velocemente velocemente solo sì o no sì o no ok 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 what is your idea good translation yeah so Welcome to the South when was that made quando è stato fatto Welcome to the South benvenuti al Sud nel 10 anni 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 younger people they're using TikTok ok 10 anni fa era un film da vedere 10 anni fa però oggi come oggi la mia idea è di fare di girare un film che che parla dei TikTok Google e l'utilizzo di questi smartphones ok carry on so to get the same sort of draw as Welcome to the South did you know vorrebbe avere lo stesso successo come Benvenuti al Sud vorrebbe avere quel tipo di successo magari usando questi nuovi questo nuovo sistema in modo tale che potrebbero avere dopo una competizione di film esattamente come adesso no che alla fine girano questo film vari filmati attraverso questi TikTok alla fine ci sarà una giuria e il migliore vincerà and the best one will win right that's it I think you said it all ok I think I said it all l'ho detto tutta siamo curiosi allora di vedere il tuo prossimo film a questo punto so we're really you know we really we just can't wait to see your next film I don't qualify I think 25 years old or under and I don't qualify and feature the region and then have an evening like this where the best one and the American present the award to the best one ok e poi rappresentiamo presentiamo the best reward il miglior premio allora se mi permetti Teresa devo dire che Keith ci ha dato l'idea per inserire una sezione dedicata ai giovani che lavorano sui telefonini e quindi sui video realizzati solo con gli smartphone ok smartphone this is the idea you just gave him now alright he's gonna use smartphone and try to you know idolize this idea congratulations no cost no cost for you Gianni bene Chris non per ultimo ovviamente ci interessa sapere adesso da te la tua idea di cine turismo per il territorio in cui vivi ma anche insomma ecco l'idea di cinema che più insomma può attirare attenzione la mia film ok stop ok 750 people alright already booked up ok lui è appassionato di questi documentari storici come avete potuto visionare vedere i suoi film e tutt'oggi 750 persone al giorno visionano il suo documentario carry on so if you were to do the same concept to take people on travel log historical documentary through this region ok and then put it in the united states people will want to come and retrace those steps ok quindi lui dice ovviamente se volesse girare in italia un filmato un documentario delle montagne italiane in qualsiasi regione perché è bellissima la nostra regione infatti Teresa scusami Chris ha girato proprio un documentario in italia quindi insomma ha promosso dagli Stati Uniti l'Italia e lui adesso vorrebbe fare la stessa cosa girare questa zona promuoverla in america quale zona what zone would you like to you know just shoot this documentary in italy well I need to learn more about the history here ovviamente sarà sempre concentrata con la storia cioè connessa alla storia dovrebbe studiare meglio la storia delle località puoi dire a Chris che ha girato al nord ora deve girare al sud sulla costa però perché noi siamo ricchi di storia e cultura ok allora ne approfitto di dire a Chris che noi abbiamo in Campania e soprattutto nel Cilento la montagna più alta della regione che è il monte Cervati Cervati Mountain ho detto bene? Cervati Mountain ma sto diventando bravo Ricci in inglese here in this region alright so you can go there and shoot your film ok quindi potrebbe andare benissimo lì perfetto allora ti aspettiamo quindi per per le riprese e c'è anche la neve diglielo questo in inverno però ovviamente non dimenticare anche Castellabate perché è ricco di storia ok io ringrazio davvero i nostri ospiti il nostro sindaco Luisa Maiuri Teresa che è stata anche questa sera insomma bravissima brillante insomma è riuscita a tradurre velocemente tutto quello insomma che abbiamo detto Lucia Macale per la sua presenza insomma la produttrice di Immago Film i nostri ospiti quindi partendo da Mister Ema grazie Kit Stout grazie e Chris Anthony grazie anche a lei e un ringraziamento va anche a tutti i nostri telespettatori che anche questa sera ci hanno tenuto compagnia insomma siamo in diretta quindi insomma si sono collegati anche ai nostri canali social e un ringraziamento ho sempre il mio Angelo Custode me ne ero dimenticato alle spalle che mi ricorda i ringraziamenti un ringraziamento va anche ad Andrè Giaccio a Gerry Giaccio a Daniele Romualdi ma a tutti i ragazzi insomma dello staff del Castellabate Film Festival citerei anche a ringraziare tutti coloro che hanno svolto i corsi in queste cinque giornate che sono stati davvero bellissimi insomma ho sentito i commenti un po' in giro e quindi davvero complimenti i bambini si sono divertiti poi vabbè ce lo diranno anche insomma i cittadini di Castellabate il sindaco insomma come è andata e grazie soprattutto a Gianni Petrizzo che è poi la colonna portante insomma di questa manifestazione sì non andate via pubblicità e poi subito qui di nuovo nel salotto del Castellabate Film Festival per parlare del film di questa sera il diritto alla felicità rimanete con noi grazie anche a Benedetta Petrizzo grazie a tutti